ciao allora oggi vi voglio parlare di questa cipria il polvere libera della essence che si chiama stay all day fixed in power translucent quindi lucente dunque la confezione è il colore numero 10 la confezione è da c'era scritto davanti perfetto 11 grammi e il prezzo è di 4 euro e 49 come sempre io quando vi mostro i prodotti vuol dire che li ho finiti anche perché abbiamo fatto un test ma prima di mostrarvelo ve ne voglio parlare un attimo perché è una cipria in polvere libera che scusate adesso vi mostro così ok che intanto non mi ricordo ma questo me lo fate sapere voi se nella confezione era compreso anche quei puff da applicare perché non lo trovo se c'era non lo trovo se non c'era per forza che non trovo quindi fatemelo sapere voi ma allora è una cipria interessante e prima per l'inci perché è una cipria in polvere libera sì ma non ha siliconi quindi a 1 2 3 4 5 ingredienti che non sono niente male sì c'è conservanti ok però niente male per l'inci da considerare anche per questo poi si tratta di una polvere impalpabile ma davvero impalpabile che per non avere siliconi è interessante probabilmente non c'è neanche la mica non lo so però è davvero impalpabile a differenza di tante cipre in polvere libera questa non va a sbiancare l'incarnato anche se il colore è bianco come vedrete non mi va a sbiancare troppo l'incarnato e non mi fa effetto flashback quindi due cose interessantissime e poi dopo direi che inutile parlare di altro guardiamo assieme il test non mi fa effetto non mi fa effetto non mi fa effetto ok allora questo è il risultato finale a noi interessa guardare la cipria quindi la zona t non guardate questo lucido ho un po esagerato con illuminante ma tanto andremo a fare tutti i test con le salviettine sebo regolatrici quindi eccoci qua quindi con le salviette lo capiremo meglio sì effettivamente questo illuminante è molto molto uof ma non ci interessa la cipria e adesso sono le 11 e 52 e direi di iniziare ufficialmente questo test allora eccoci qui sono le 16 e 02 si vedrà mai primo aggiornamento dunque situazione mi sembra buona ma noi andiamo con le nostre cartine a testarla allora direi quasi eccellente e poi i lati del naso che ci interessa un pochino meno però dopo quattro ore direi che alla grande proprio guardate non sta neanche attaccata direi che si comporta notevolmente bene e nel mentre io sono stata anche fuori si si vede un po dal naso perché me lo sono soffiata molte volte ma direi che si comporta proprio alla grande e noi ci vediamo al prossimo aggiornamento allora eccoci qua sono le 7 e 44 quindi direi che sono quasi otto ore possiamo anche vedere di concludere questo test allora nel mentre sono stata al pc e si nota che al pc mi appoggio effettivamente si nota comunque vediamo soprattutto la zona t cartina alla mano e vediamo è un po ma non tantissimo tanto vediamo sì ma non non esageratamente effettivamente aspettate sulle guance un po di più però non è una cosa esagerata effettivamente toccandomi si sento che qui un po più unto però non tanto nel mentre cerco di farvi vedere che allora intanto vabbè sapevo che il correttore me lo toglieva completamente ma perché mi sono soffiata tante volte il naso anche perché è inutile e con l'allergia però il correttore non l'ha spostato più di tanto dalle occhiaie e l'ha segnato poco anche se l'occhio a me l'ha cremato comunque sono 8 ore quindi un ritocco perché no un pochino si un po si vede ma neanche troppo quindi per una cipria effettivamente low cost ci sta e questo era tutto l'aggiornamento allora avete visto anche voi si si comporta davvero bene considerate che io la pelle mista tenete a grasso ed è poi nella zona t nella zona del naso soprattutto tendo a lucidarmi molto velocemente questa cipria ha un effetto impalpabile ma si va a fissare e rende la pelle opaca davvero a lungo ma davvero a lungo mi è piaciuta tantissimo per questo avete visto che ho fatto anche il baking ma non va assolutamente a dentro le pieghette ovviamente non dovete avere un contorno occhi troppo segnato o troppo secco comunque mi fissa perfettamente il correttore mi fissa perfettamente il fondotinta non si va a spostare durante il giorno non mi crea macchie fantastico davvero mi è piaciuto tanto da applicare con la spugnetta io ad esempio faccio con la blender il baking e poi dopo il resto col pennello io poi con la cipria abbondo abbondo alla grande soprattutto nella zona t ma davvero non fa strato non fa spessore non si sente sulla pelle se non per il fatto che è bella liscia mi è piaciuta tantissimo per intenderci oggi non ce l'ho sopra ma non sono lucida cioè sembro delle luci lucida ma invece sono bella opaca si vede che la cipria che sto usando adesso mi fissa il trucco ma non è così opacizzante sembro bella illuminata comunque non sto usando questa perché ovviamente l'ho finita mi è piaciuta tanto cioè non ho trovato effetti negativi cioè davvero mantieni le promesse non ha un inci malvagio fissa il trucco fissa davvero fissa il correttore fissa la cipria si può anche stratificare che non va a creare le pieghette a me è piaciuta tantissimo non credevo per una cipria della essence ma invece ragazze davvero adesso leggiamo nelle descrizioni si mantiene tutte le promesse allora cipria viso trasparente effetto opacizzante texture delicata per un incarnato naturale con effetto opacizzante che dura lungo aiuta a far fondare i colori di blush e fondotinta e a fissare il make up per tutti i tipi di pelle allora io direi che mantiene tutte le promesse effetto trasparente sì perché è una delle poche cipre bianche che non mi va a sbiancare il viso che già sono un fantasmino se poi devo fare anche un super contouring perché sono bianca poi effetto opacizzante alla grande trasparente dalla texture delicata per un incarnato naturale sì è verissimo non è polveroso non è in effetto non fa strato ed aiuta a far fondare si bene cipre ovvio che funziona per questo niente mantiene tutte le promesse mi è piaciuta tantissimo si comporta benissimo e assolutamente io ve la stra stra consiglio questa quanto di tutto costa anche davvero poco quindi perfetto soprattutto per chi come me le mangia le cipria sembra che le mangia l'unica cosa delle cipre in polvere libera è che ogni volta che le usate sono talmente polverose che sembra che sia passata la narcos direttamente sotto ma questo è normale e ovviamente vestitevi con i vestiti scuri così si vede benissimo dove perde la polvere ma è normale altra cosa da segnalarvi i buchetti sono belli grandi quindi esce la giusta quantità di prodotto e il tappino è bello largo per il pennello anche i pennelli più larghi quindi è comodissima per tutti gli usi e niente io qui sotto voglio sapere da voi nei commenti se l'avete provata e come siete trovate oppure se vi ho consigliato un prodotto utile che proverete e noi ci vediamo al prossimo video ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese ciao